Una delle cose che mi piace di più fare è decorare le cassette della frutta. Ciao, io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia, dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. Nel video tutorial di oggi ti mostro tre modi diversi con cui ho decorato e poi ho riutilizzato delle cassette di legno della frutta e della verdura. A me piace decorarle per riutilizzarle in casa, ma alcune decorate magari in modo un po' particolare le uso anche come idee regalo. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Se invece questo video non ti piace, lasciami pure la tua critica costruttiva nei commenti. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.